Giorgio Sorial, deputato 5 Stelle, che intervenendo in aula ha mostrato la maschera di Lambertodini, citato come simbolo accanto a Giuliano Amato dei pensionati super privilegiati, non ci sta e replica. La nostra era l'unica mozione realmente efficace perché supera le obiezioni della Corte Costituzionale, per cui la progressività era un vincolo. I 518 euro in più dati ai pensionati minimi che noi avremmo dato loro sono una boccata d'aria per l'economia reale e quindi ne avrebbe tratto vantaggio tutto il Paese.